Florens Multimedia Firenze in pruneta su quelle di destra Infipillico denuscita alla strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandici e Firenze-Scandici verso Firenze Statale 1 Aurelia chiusa in direzione sud tra la rotatoria di Viareggio e Viareggio Sud per un danno al cavalcavia al chilometro 356 e 616 provocato da un trasporto eccezionale Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!